Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon Dì. Allora, c'è di Ghioldi l'issoddisfazione che sono seminati svie per giornate? Non sta a cercare, e sono già. Per esempio, il lavoro non sta a dissiparlo con la premura, con la confusione. C'è di Ghioldi lì. Ghioldi ciò che tu facis. Le persone che tu chiedi. Chiappelli ciò che sono, ciò che tu varesti che fossi, perché ognuno dì noi ha i miei di vendere e i miei di comprare. Ha fatto parlare di loro e parlare di noi, ognuno di noi. E ciò di noi arrabbiati, per le cose che ti tocchino, che nessuno ha le parole di vita. E vedi che tu hai due voi, due sorelle, due mani. Ma tu hai un fiazzo, non sta a rovinarlo. Ecco, col arrabbiati peserobis. Cir di voletì bene. Buone giornate e buone vite. Grazie. Grazie. Grazie.